Salve ragazzi, bentornati in un nuovo episodio della nostra serie di sopravvivenza. Allora, i più attenti di voi avranno notato qualcosa di strano, cioè i miei livelli di esperienza. Ne erano 33 o 36, adesso ne sono 7. Perché, voi direte? È molto semplice, io l'ultima puntata l'ho finita su questo pillarone, mi era completamente scordato di stare su quel pillarone, ho iniziato il gioco, mi sono spostato e sono caduto, e sono morto. E niente, questo è. Comunque, a parte questa cosa drammatica, in questo episodio bellissimo andremo a fare una farm di ferro, ragazzi. A parte che ho avuto un'idea bellissima per il villaggio, ma non ve la spoilerò, lo faremo probabilmente nell'altro episodio, perché mi serviranno un sacco di blocchi, devo fare un sacco di roba, ma verrà un villaggio strafighissimo, super protetto, insomma una cosa molto wow. Ma ho pensato che in questo episodio dobbiamo effettivamente iniziare a fare la farm di ferro. Qualcuno di voi me l'aveva consigliata, non mi ricordo più chi, vediamo un po'. Ah no, me l'avevo consigliata da solo, perfetto. Allora, come la faremo questa farm di ferro? Sarà una farm di ferro abbastanza particolare, cioè la farm di ferro è semplice da fare, però sarà particolare perché voglio che tutto il ferro che viene prodotto mi arrivi direttamente in una cesta, o qua o da qualche parte qua. Quindi la farm di ferro la faremo sopra la montagna. Intanto io andrei anche a dormire perché è notte, già sono morto, non vorrei rimu... Ecco, vedete, Criamor Phil from Hyde Place, sì, sono caduto proprio da un posto alto, porco lo schifo. Comunque la faremo sopra la montagna, in modo che quando poi l'Aerongolem muore bruciato, troppa il ferro, il ferro finisce dentro una tramoggia, sicuramente ci sarà un sistema tipo gettatore, tipo quello che abbiamo messo qua sotto, ve lo faccio vedere, una cosa del genere. Quindi quando la roba va qua dentro, questo lo sputacchia in un buco, attraverso il buco dalla nostra farm cascherà appunto in un buco e finirà in un'altra tramoggia che poi ci metterà il ferro in una cesta. Allora, per fare questo abbiamo alcune difficoltà, chiaramente. La prima difficoltà è portare tre villager sopra la montagna. Noi abbiamo i villager qua, li posso far accoppiare tranquillamente, quindi posso avere tre villager. Il problema è portarli sopra la montagna. E questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà è che io non ho una nametag, perché mi serve anche uno zombie, e lo zombie, poverino, non deve desponare, perché se despona non mi serve un cazzarola. Il problema è che io la nametag non ce l'ho. Non avrei molta voglia di andare a cercare una nametag in una miniera o roba del genere, quindi dovrei provare a, in teoria, far prendere allo zombie un oggetto, perché se lo zombie, almeno così sta scritto da qualche parte, se lo zombie ha in mano un oggetto, in teoria non dovrebbe desponare. Almeno questa è la teoria. Poi la pratica, dobbiamo vedere se funziona. Comunque, io inizierei subito a preparare quella che sarà la nostra farm intanto. Allora, decidiamo. Più o meno dovrà essere quassù. Io devo fare anche in modo di fare, appunto, il buco che poi mi porterà qua, però devo anche avvantaggiarmi per trascinare i villager su. Perché? Per portare i villager su, io ho pensato di usare un ascensore ad acqua. Li infilo là dentro, in teoria dovrebbero salire e trovarsi lassù. Quindi dal villaggio li faccio duplicare, moltiplicare, accoppiare, non mi ricordo come si dice, me li porto quassù sempre con un ascensorino ad acqua e poi li faccio andare nel buco che alla fine useremo per droppare i lingotti. Ora, devo solamente scegliere dove fare questo buco. Io penso che potrei farlo anche qua. Qua dentro c'è qualcosa che posso morirci. No. Ok, tipo, lo potrei fare qua, a questa altezza. Quindi qua mi casca il ferro, qua ci sarà una tramoggia e qua ci sarà un sistema di chest. Secondo me qua si potrebbe fare. Tanto sta qua vicino, un'altra porticina per il ferro. Posso potenzialmente anche creare un posto più largo qua volendo. Quindi in teoria, qua ci sono già le chest. Va bene, va bene, non è un problema. Allora, forse sarebbe meglio farlo un po' più qua. Ecco, diciamo, qua sarà il nostro buco. Ovviamente per il momento mi servirà fare un sistema di risalita con l'acqua. Quindi prendiamo le coordinate di questo punto, che sono esattamente, ce le scriviamo, meno 1400, anzi, vediamo il blocco che sto puntando. Ok, è sulla destra. Mi stavo cercando per cercare lo. Targeted block. È questo qua. Questo è il blocco. Quindi, meno 1448, vabbè, 26 non ce ne frega niente, 2030. 2030. Queste sono le coordinate che noi dobbiamo andare a prendere anche su. Quindi, ora andiamo sopra la montagna. Anzi, vorrei fare una cosa. Magari ce la metto già una secchietta d'acqua, perché se poi finisce che è una sola e casco, in teoria non dovrebbe essere una sola perché, insomma, dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Allora, andiamo un attimino sopra e scaviamo sto buco. Ovviamente il mio inventario è sempre pieno di monnezza, ma non ci fate caso. È così. Che ci vogliamo fare? Allora, meno 1448, meno 2030. Andiamo a queste coordinate. Ok, questo dovrebbe essere il posto giusto. Meno 1448, meno 2030. Ora, chiaramente dobbiamo fare una cosa che non si fa mai, cioè scavarci sotto il culo. Eh, lo so. Potrei morirci malissimo? Sì, però tanto sono già morto, quindi che me frega, l'esperienza ormai è andata. Quindi scaviamo, piano piano, sperando di non morire malissimo. Vediamo se ci riusciamo. Insomma, piano piano, dovrei arrivare nella mia base. Ok, potrei essere vicino, in teoria. Non è vero mai. Non è vero, ok. Perfettissimo. Benissimo, questo sarà il buco che ci porterà i nostri lingottazzi di ferro, ma per il momento non ci serve a quello, ma ci serve a fare altro. Allora, per fortuna, noi abbiamo scoperto che con le kelp possiamo fare l'acqua ferma, quindi, altrimenti sarebbe stato un casino, mettere 9 milioni di secchi d'acqua là, cioè, ci avrei rinunciato. Allora, io mi pulisco un attimo l'inventario di tutto questo schifo, perché effettivamente ce n'ho parecchio. Poi ci mettiamo all'opera. Ok, pulito l'inventario, ho preso un po' di kelp, quindi possiamo andare a fare quello che ci serve. Qua magari ci metterò un blocco di soul send, altrimenti non funziona nulla, ma la soul send io ce l'ho perché ne ho presa un sacco, me lo ricordo. Infatti ce l'ho, me ne serviranno due perché devo fare la stessa cosa pure nel villaggio, altrimenti come li faccio a fase di sopra? È un casino. Facciamo così, perfetto, intanto abbiamo preso anche schifi, ma va bene. Vado a buttare una secchiata d'acqua lì su e poi torno giù. Allora, dovrebbe essere questo il punto? Esattamente. Quindi, buttiamo una bella secchiata qua e adesso devo ritornare giù. E siamo tornati. Oh, adesso andiamo a mettere tutte queste kelp là dentro, magari dormiamo prima perché è già notte e non vorrei incontrare zombie. Almeno non ancora. Dopo pure pure sì. Perfetto, prendiamoci dei cartelli che io sicuramente ho. Ottimo. Qua intanto si è allagato tutto, giustamente. Aspettate che ce la posso fare. Ok, perfetto. Kelp alla mano, signori, e andiamo. Ci buttiamo sott'acqua. Speriamo di far presto perché l'ossigeno sta già finendo. Purtroppo finché non rompo le kelp non c'è l'effetto delle bollicine che sale, e quindi posso morire come sta succedendo. Benissimo. Porca miseria. Ho finito le kelp, ho finito le kelp. Ci muoio malissimo, ci muoio malissimo. No, ci muoio malissimo perché c'ho... Ok, mi son salvato. Non è vero? Ok, mi son salvato. No, no, è stato un caso. Voi non vedete nulla, ma io per sbaglio ho messo un cartello e il cartello mi ha dato ossigeno. Non avevo pensato a mettere un cartello perché non ci ho pensato, ma va bene così. Eh, lo so che non vedete nulla. Aspettate che mi salgono i cuori. Stavo già rimorendo. Ok, rompiamo il cartello. Piano piano. Troppo piano. Perfetto. Andiamo. Mamma mia, mi son salvato proprio acculissimo ragazzi. Acculissimo. Perfetto. Non siamo morti. Ok, ora una volta che vado giù e rompo le kelp, qua ci stanno le bollicine e quelli salgono. Perfettissimo. Quindi questo l'abbiamo fatto. Ora qua, io vorrei anche iniziare a sistemare un po'. Anche perché questo sarà il buco dove poi devono cadere i lingotti di ferro. Quindi la mia farm di ferro necessariamente deve essere costruita da ste parti. Quindi a sto punto io direi iniziamo la costruzione della farm di ferro o almeno la abbozziamo. Guarda, io farei così, così magari l'acqua mi aiuta. Non mi aiuta a fa un cacchio l'acqua. Niente, una volta l'acqua levava tutto, le foglie, adesso non fa un cazzo l'acqua. Non lo so perché. Allora, adesso dobbiamo fare una zona intorno a questo buco dove ci sarà la farm abbastanza grande dove non ci spona nessuno in modo che aumentiamo lo spawn rate degli aeon golem. Per fare questo normalmente noi andavamo a mettere delle slab perché sappiamo che i mob sulle slab non sponano. Però ho scoperto che non sponano manco qua sui sentieri quindi invece di mettere slab a rotta di collo io faccio diventare una bella zona tutta di sentieri e poi costruiamo qua più o meno da queste parti la nostra farm. Quindi adesso devo un attimino terraformare tutto fare cose è un po' una rotta di palle però purtroppo su Minecraft quando devi fare le costruzioni specialmente queste qua un po' tecniche un po' le palle te le devi rompere. È una regola non scritta ma la conosciamo tutti. Quindi iniziamo a terraformare qua con molta calma. Devo comprarmi un mouse che fa meno casino perché poi mi sono risentito i video e c'è sempre sto click malefico in mezzo alle balle è abbastanza fastidio a me dà fastidio non so a voi. Ok la terra in teoria l'abbiamo tolta magari tolgo pure un altro po' di questa direi che lo spazio c'è finisco di terraformare quindi leviamo pure sta roba ragazzi sto mettendo un po' di torce perché non c'ho letto e non c'ho sbatti di tornaggiù quindi rimango qua anche di notte però almeno illumino un po' la zona questo fa un macello esagerato sperando che non mi arrivino ecco appunto creeper porca zozza l'ho appena nominati vabbè non è un problema dai possiamo affrontare due creeperetti se ci vengono a rompere le balle allora continuiamo a terraformare con la terra appunto ok ho scoperto che odio pure sti fiorellini maledetti oltre ai tappeti odio anche questi quando devi build up perché ti rompono proprio i coglioni in un modo impressionante intanto mi guardo intorno ragazzi che qua il creeper è sempre dietro l'angolo c'è uno zombie non ha nessun oggetto in mano quindi lo possiamo uccidere malissimo se ne becco uno con un oggetto in mano lo blocco assolutamente perché in teoria quello con l'oggetto in mano non dovrebbe responare in teoria poi magari respona ci rimango di merda lo stesso però vabbè di terra ce l'ho a bizzeffa ogni tanto il mio mouse si setta con la velocità assassina dio solo sa per quale motivo mi serve uno zombie con un oggetto in mano se proprio dovete venire a rompermi le balle a meno venite con qualcosa in mano allora diciamo che la nostra farm starà più o meno qua quindi io ci lascerei sì un altro po' di spazio intorno che poi andremo a trasformare in percorso ma non mi viene il termine forse non esiste un termine però insomma lo devo spalettare ecco diciamo così fiorellini di merda ce ne stanno miliardi in questo certo che ho scelto proprio il bioma più schifoso che potevo beccare per carità bellissima la montagna quello che te pare ma tra sti alberelli rosa sti fiorellini del cacchio e che porco schifo proprio una rottura di palle vabbè mamma mia un creeper non so se l'avete visto no vabbè mi son terrorizzato cioè ci son passato vicinissimo ve l'ho detto che il creeper è dietro l'angolo io ve l'ho detto che il creeper è un infame bastardo schifoso che non lo senti non lo senti non è che ti dice qualcosa no no tu te lo trovi di faccia e mi son salvato ovviamente per culo anche questa volta e penso che per questo episodio io abbia esaurito la mia dose di culo quindi dobbiamo stare attenti che alla prossima ci rimango è matematica questa cosa fatemi guardare intorno porca zotta cioè non è possibile che io per costruire una cosa del genere devo stare con l'ansia oh e daglie su ok qua pure devo sfasciare tutti sti fiorellini erbetta ma che due coglioni incredibili secondo me ci siamo magari sti alberelli andrebbero anche sfasciati voi che dite secondo me sì aspettate che li sfascio un attimo ovviamente pure sti alberelli no dico io sono una tragedia da buttare giù perché ci hanno 2700 diramazioni è una cosa incredibile guarda quanti ce n'hanno è finito secondo voi no perché c'è un altro pezzo è ancora un altro e vabbè e vabbè ok però pure tu cioè così no così no abbiamo finito potresti desponare ragazzo sì in teoria sì risparmiamoci la pala che ci abbiamo vabbè insomma in teoria ce la facciamo anche perché c'è un breaking quindi però sei com'è allora io intanto fiorellini fiorelli ho buttato una zappa che non dovevo buttare ma va bene allora no non despona perché sta attaccato a quest'altro questo bastardo infamissimo cioè sono tutti collegati i salberelli ma prendete conto quanti ce ne stanno chi me sta a me là oh ma è giorno perché me meni ma perché sti ragni sono tutti così di oggi è giorno è chiaramente giorno ok ce l'abbiamo allora iniziamo uno due tre quattro vabbè facciamo tutta sta zona così più grande è la zona meglio è perché vuol dire che non sponeranno zombie in tutta quella zona e quindi l'unica cosa che potrà sponare è l'iron goal giustamente secondo me sta pala fa una brutta fine prima che finiamo sta farm ragazzi ho questo presentimento io ho sentito uno zombie cos'è là ah no è un coniglio scemo però io ho sentito uno zombie vi assicuro che c'è uno zombie da qualche parte secondo me dovrei andare a riparare sta pala ho questo presentimento cioè mi dispiacerebbe romperla perché è una gran bella pala quanto mi è rimasto 318 vabbè secondo me ce la fa in teoria dovrebbe reggere ok perfetto e adesso faccio così per tutto quanto questo pezzo di terreno ok dovrei aver finito la mia pala è al 36 utilizzi va bene ora dobbiamo evitare ovviamente che la gente entri qua dentro perché qui sicuramente non possono sponare 27 utilizzi devo stare attento che questa pala me la frego lo dico io che me la frego quindi io direi che possiamo tranquillamente mettere delle staccionate tanto legno ce n'ho in quantità chi se ne frega magari leviamoci di mezzo un po' di terra ci prendiamo un po' di legno le staccionate rosa voi direte vuoi fare delle staccionate rosa per una farm di ferro sì perché questo non ho proprio voglia di scendere giù ve lo giuro proprio mi rompo le palle tantissimo quindi faremo le staccionate rosa per la nostra farm di ferro lo so non è una bella cosa c'entra niente con la farm di ferro la farm di ferro è una cosa figa tutta sai l'iron golem tutto bello strong noi facciamo le staccionate rosa me ne rendo conto però quando non hai voglia di fare una cosa non è che ti puoi cioè sì ti puoi costringere però nel mio caso no non c'ho voglia io sta pala la distruggo basta non la devo più usare allora non la devo più usare ok ricordia è porco lo schifo non la devo più usare la sto usando guardiamoci intorno che il creeperozzo è sempre dietro l'angolo sti fiorellini di merda da tutte le parti ho finito le staccionate allontaniamoci un attimo con molta calma c'ho ancora delle staccionate però ho visto hello là che ti ho detto io hello là l'infame malefico bastardo assassino ma guarda mi cerca mi cerca lui mi cerca tantissimo io devo togli i misti fiorellini da torno le balle là c'è quell'alberello che abbiamo usato per prendere le foglie che poi lo dovrò togliere da là perché non è proprio un bel vedere diciamo altre staccionate io ogni tanto sbircio il creeper secondo me manco ce la faccio con tutte queste staccionate però eh c'ho questo presentimento 62 non ce la farò mai vabbè non è un problema ho sì una freccia infatti c'è una freccia c'è lo scheletro pazzo c'è un altro scheletro pazzo ma non mi ha ancora visto mi basteranno non mi basteranno mai nella vita mai perché ho fatto le staccionate rosa mo devo tagliare gli altri alberelli no vabbè il magazzino ce l'ho mi stanno attaccando vedi vedi questi fiori maledetti cosa ti combinano porco lo schifo allora amico con molta calma non ci non ci alteriamo eh piano piano si fa tutto sfasciamo qua leviamo tutti i fiori puzzolenti e schifosi eh per poco però eh per poco non ce l'ho fatta vabbè vado a prendere altra roba giù mi tocca signori mi tocca beh visto che sto qua io una riparatina ce la darei in teoria dovrei farcela ma ce la faccio tantissimo ok almeno non c'ho più la pala che sta morendo va bene allora intanto prendiamoci pure dei blocchi da costruzione per fare quello che dobbiamo fare inizialmente e la facciamo già carina oppure la facciamo abbozzata e poi l'aggiustiamo io la farei tutta molto scialla e poi l'aggiustiamo in un secondo momento raga chi se ne frega quindi useremo cobblestone per fare tutto mi serviranno dei letti quindi dovrò avere della lana che non ho quindi dobbiamo pure andare a ammazzare pecorelle vabbè abbiamo un po' un po' da fare tanto sopra possiamo salire così non è vero mai dovevo rompere sta roba ok ora possiamo salire eccoci qua almeno la risalita è rapida ora la cosa che mi rompe le palle potentissimamente è che io devo rompere altri alberelli qua mi basterà questo legno? non ne ho la ben che minima idea ok verifichiamo in teoria mi basta assolutamente potrei fare un cancelletto perché non ho fatto un cancelletto come esco io da sto posto se no ho ancora dei legni si ce l'ho ancora il cancelletto si fa così ok ne faccio uno tanto per avercelo no allora in teoria qua non dovrebbe esponare più nessuno bene o male sto coso è quasi al centro non esattamente al centro e qua posso fare il cancelletto per uscire dove sta il mio cancelletto lo mettiamo qua e siamo tutti quanti contenti nel momento ho pure visto una pecorella da quelle parti che necessito purtroppo di di lana io solo che le sto a secca tutte le pecorelle qua perché non lo sto prendendo perché ho sti fiori di merda in mano ok allora mi serviranno tre letti perché per fare questa farm ci vogliono tre villager quindi vado a prendere un po' di lana in giro per il mondo laggiù vedo una pecorella la ne vedo un'altra però le sto a far fuori tutte veramente le pecorelle qua poi dovremmo fare una ripopolazione no un ripopolamento come si dice in Italia ripopolamento si ripopolamento insomma dobbiamo portare le pecore e metterle qua perché altrimenti abbiamo istinto le pecore siamo delle bruttissime persone non avevamo dubbi su questo me ne servono altre tre solo tre pecorelle e la smetto di di fare questo pecoricidio termini coniati al momento ma che volete di più veramente guarda si ok sono pecore quelle ma stando lontanissime però c'è una pecora più vicina no qua c'è pure il baratro quindi non col cacchio che le vado a pigliare quelle pecore non è vero forse ci posso andare si sono lontanissime però vabbè che dobbiamo fare mi serve della della lana per fortuna sto posto è pieno di pecore almeno almeno quello ok una pecorella due pecorelle te non me ne frega niente di te levati dalle balle e quattro no veramente erano tre pecorelle ok non ci fate caso signori quando metti un sacco di di blocchi dopo un po' inizi a spara stronzate nel mio caso anche se non metti blocchi ma quelli sono dettagli tecnici trascurabilissimi in questo video ok allora eh perché sono uscito devo andarmi a prendere la crafting table un attimo così facciamo giusti tre letti mi serve dell'altro legno non ci sto credendo mai signori abbiamo i letti e già è una gran cosa allora adesso dobbiamo ragionare con molta calma perché qua praticamente ci sarà la tramoggia che poi butta quindi l'iron golem morirà più o meno qua sopra deve avere un po' di spazio per sponare quindi io prendendo la nostra cobblestone potrei fare qualcosa del genere con abbastanza certezza di non stare a fare una stronzata più o meno mettiamo i letti qua due e tre perfetto qui villager praticamente andando avanti indietro spaventatissimi a morte perché ci sarà una zombie che li guarderà quindi qua ci deve stare dello spazio così i nostri villager stanno qua che fanno avanti indietro qui in questo punto preciso proprio qua ci sarà il nostro zombo che zomba praticamente ok qua c'è lo zombie e praticamente è finito cioè questo è ora dobbiamo solamente chiudere tutto quanto perché giustamente loro devono stare tranquilli al buio cioè al buio no però insomma devono stare tranquilli facciamo una roba del genere tac 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 un buchetto per farli guardare dallo zombie e basta altrimenti lo zombie gli zomba addosso e succede un casino ok dovremmo esserci potenzialmente poi vabbè i villager da lì li faccio entrare qua dentro non è un problema ora io coprirò così che non è proprio la soluzione più bella perché per evitare che entri luce no ma la luce può entrare chi se ne frega scusatemi allora no non coprirò così ho appena sparato una minchiata volevo dire coprirò con degli slab posso coprire quelli sono altri due blocchi vabbè copro tutto così sugli slab non possono sponare mob quindi sicuramente l'iron golem qua su non può sponare e nemmeno i zombie e qua siamo tutti quanti contenti e questa parte l'abbiamo fatta intanto sta calando la notte ma stavolta non è un grande problema perché ho tre letti dormo qua chi se ne frega perfetto allora quindi lo zombie deve andare qui dentro qua ci deve stare un blocco che non gli permetterà di raggiungere i villager ma li spaventerà ovviamente lo zombie deve stare coperto altrimenti con la luce mi muore male poverino qui mettiamo degli altri slab in modo da evitare che sponi il gente pure qua su ecco fatto ok questa è l'entrata per lo zombie che poi andremo a chiudere qua è tutto bello si esteticamente fa cagare io me ne rendo perfettamente conto però purtroppo questo è ora dobbiamo fare la piattaforma dove sponerà il nostro iron golem quindi devo fare in modo che quello viene buttato lì a sto punto la piattaforma sicuramente sarà qualcosa del genere ok diamogli abbastanza spazio dove sponare ok secondo me gli possiamo pure dare un altro po' di spazio dai chi se ne frega ma gliene darei anche un altro pochino ora facciamoci una piccola salitina per salire appunto allora lo zombie eh si lo zombie ciao il come calchio si chiama lui spona qua io qua ci potrei mettere delle dei wall che non ho non è un problema mi faccio un'altra crafting table a volo qua su me la faccio non mi interessa proprio ecco qua facciamoci un attimino due tre dodici questi e facciamo così io mi sono portato solo una secchiera d'acqua vero? che sono furbo e molto intelligente giustamente allora quindi l'iron golem spone in questa zona più o meno e qua ci saranno delle tramogge che raccoglieranno gli oggetti esattamente qua uno due e tre tramogge che convoglieranno al centro al centro così da qua ne arriva un'altra che va qua poi scende e qua c'è il sistema di gettamento chiamiamolo così allora mi serve dell'acqua che non ho devo andarmi a prendere dell'acqua ragazzi devo anche andarmi a prendere del cibo ragazzi devo prendermi un sacco di roba ragazzi quando uno è organizzato vedi come funziona uno deve essere organizzato per fare le cose io sono organizzatissimo pezzo alle gambe giustamente un'altra volta giustamente facciamoci pure una pozzetta d'acqua no vabbè devo andare a mangiare ragazzi se no qua ci muoio veramente ok ho preso un po' di cose così facciamo un attimo il punto della situazione perché mi sto perdendo tantissimo mi sono fatto delle tramogge che mi serviranno sicuramente non ho preso la secchietta d'acqua perché sono geniale però le tramogge ce l'ho allora le tramogge andranno qua sotto esattamente qui possiamo fare una roba di questo tipo allora fatemi fatemi riflettere perché qua ci andrà una cest probabilmente che non ho quindi per il momento possiamo usare un blocco del genere per simulare la cesta ok risaliamo un attimino qua sopra molto velocemente e mettiamo delle tramogge questa punta verso il basso questa punta verso questa tramoggia e questa punta verso questa tramoggia perfetto qua ci andranno delle secchiette d'acqua che porteranno l'acqua qua qua ci va una fonte di lava sospesa in modo che il golem ci passa e se brucia e qua su dovremmo essere abbastanza a posto io questa qui me la porto un attimino giù momentaneamente la metterei qua tanto per avercela ora però prima di continuare io suppongo di dovermi portare i villager qua dentro secondo me è l'unica cosa da fare per portarmi i villager qua dentro devo fare una cosa molto tecnica tecnica no insomma li devo portare qua dentro allora intanto qua non so se ci va forse ci va la terra normale penso sia indifferente sinceramente però nel dubbio ci mettiamo della terra non è che poi mi spona un no allora per sicurezza mo stavo pensando non è che mi spona in modo cattivissimo un enderman che se frega la terra forse è meglio non mettere la terra in teoria non dovrebbe sponare qua dentro però raga voi li sapete gli enderman sono imprevedibili quello a fini che mi spona qua mi toglie il blocco di terra questi si affossano e non funziona più un cazzo allora diciamo che così va bene io ho una torcia e una torcia ce la metterei ora dobbiamo fare in modo che i nostri villager arrivino qua questo lo possiamo togliere che non ci interessa per far arrivare i villager qua quindi per essere sicurissimi che arrivino qua intanto gli faccio un percorso obbligato ok da qua non si scappa quindi in teoria una volta che arrivano qua loro dovrebbero correre verso quel posto magari sì in teoria sì ora andiamo giù quindi dobbiamo riscendere di nuovo che due palle e cerchiamo di portare i villager qua sopra tre villager quindi devo pure far accoppiare devo fare un sacco di cose va bene non è un problema allora i nostri villager momentaneamente sono qua sotto e fin qua tutto bene ora io devo fare in modo di farli andare da qualche parte per cui loro mi vengono messi qua su e questo potrebbe essere una rogna vediamo come fare allora io potrei sfruttare questo che comunque avevo deciso di farlo diventare il sistema per salire nel mio villaggio quindi secondo me devo fare una roba del genere sarà un po' un casino ve lo dico sarà un casino anzi guarda faccio una cosa la costruisco ad hoc non me ne frega niente senza che mi vado a impazzire da dentro faccio un sistema di risalita direttamente qua proprio sciallo sciallosissimo potrei usare addirittura il muschio che in teoria ce no no vabbè uso la terra ce n'ho di più allora facciamo salire i nostri pippi da qui voi direte cosa stai facendo eh ora vi faccio vedere tutto un sistema apocalittico incredibile sì lo so fa dei pillaroni assurdi però è l'unico è l'unico rimedio che mi viene in mente mettiamo questo qua andiamo con le nostre kelp e voilà in teoria i villager salgono qua li metto sulla barchetta e con la barchetta dovrei riuscire a portarli dove mi serve ora dobbiamo riscendere magari prima andare a dormire visto che è notte e iniziamo a fare il ratto dei villager allora devo prendere dei villager che non hanno un lavoro o comunque che non ci hanno un lavoro fixato per vedere quali sono devo rompere questi blocchi perché ora non mi ricordo chi è che non c'ha un lavoro fixato in teoria rompendo i loro blocchi dovrebbero perdere il lavoro questo sicuramente non ce l'ha fixato il lavoro perché non ci ho fatto scambi e dovrebbe questo qua tu chi sei sei quello dei libri no questo è uno incazzato praticamente questo è il clerico vabbè questo è il nostro amico del mending e ci piace tantissimo qua dentro non c'è più nulla in teoria non dovrebbero più prendere un lavoro eccoli qua uno e due li vedo li vedo tantissimo allora iniziamo a sequestrare questi se ci riesco posso mettere la barchetta qua eccola qua potresti salire un po' qua su vieni qua vieni su eh aspettate mo c'è la rincorsa del villager assassino e uno ce lo siamo preso perfetto signori andiamo mo dobbiamo fare in modo che questo l'unico posto dove posso andare è lì dentro in teoria potrebbe funzionare mo vediamo non vi assicuro nulla ok amico dovresti andare lì dentro guarda è così bello quella pozzetta d'acqua se ci vai non io tu per favore ha paura dell'acqua ragazzo potrebbe essere potrebbe essere vi assicuro che ci può andare e faccio ok signori è un villager l'abbiamo buttato là ora se ci è andata di lusso dovrebbe stare già nella barchetta se magari cammini verso la barchetta bravissimo ho là ora giriamo con calma è un villager ce l'abbiamo dai alla fine non è stato così complicato ora ci facciamo tutto sto percorso bello studiato e lo portiamo nell'altra fonte di risalita che in teoria pure là c'ha una via diritta e dovrebbe andare al posto suo ecco qua mettiamo la barca qua non riesco ad uscire perché rompe le balle non è un problema facciamo così e rompiamo questa barchetta non puoi scappare di là mi dispiace tantissimo lo so che il tuo villaggio è di là quindi sei attratto potentemente dal tuo villaggio ma devi andare di qua e questo sarà un po' più complicato perché lui vuole scappare nel villaggio capite quello è il problema vediamo se lo riesco ad attirare con un blocco lavoro ok 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 signori e uno è andato andiamo a vedere eh sistemi incredibili di spostamento vai qua amico mio che qua c'è vedi che c'è tutto quello che ti serve c'è pure il letto quindi dormi non rompere le balle uno ce l'abbiamo in teoria me ne basta portare solo un altro e dovremmo essere però te ne devi andare fuori dalle balle scusami lo chiudo un attimo perché non mi fido mai di questo ecco qua dicevo in teoria ce ne basta prendere un altro e dovremmo essere a posto poi li facciamo accoppiare qua dentro ora riscendo e ne vado a prendere un altro quindi ripiazziamo una nostra barchetta tecnica qui in modo che quando risale ci rifinisce dentro perfetto e riscendiamo giù allora cerchiamo il villager senza lavoro dove sei tu c'hai il lavoro te ne devi andare non mi servi tu mai togliti di là rompi coglioni dov'è eccolo qua eccolo qua puoi andarci sulla bar non ci vuoi andare sei un bastardo te lo volevo dire vai sulla barca bravissimo levatevi tutti dalle balle ok ragazzi praticamente abbiamo quasi fatto poi qua li faccio riaccoppiare qua dentro nel villaggio in modo che si ripopola però dovremmo esserci abbastanza easy allora questa è la barchetta e va bene qua dobbiamo richiudere un attimo e va bene per quale cazzo di motivo ce ne sono due nella barchetta siete dei deficienti ve lo volevo dire non me ne vabbè non importa muoio come la sfascio ok tu devi entrare dentro tu no solamente tu vai tu no tu no è successa una cosa che non doveva succedere allora ragazzi qua dobbiamo sistemare questa faccenda un attimo allora tu se caschi ti fai molto male eh vabbè ma allora sei un deficiente però allora con calma mi son preso un villager che non andava preso vabbè non è un problema non è un problema ho già la soluzione signori ho già la soluzione ora faccio così vado un attimo in retromarcia sperando di poter piazzare questa barchetta qua la possiamo ok perfetto e questo lo riporto giù chi se ne frega perfettissimo qua per il momento chiudiamo perché questi sono stupidi ok no vabbè ma siete deficienti ma che è porca putt scusami amico non volevo colpirti ho beccato proprio quello del mending eh perdona amico sei incazzato sei incazzato eh vabbè capita risaliamo magari saliamo così in modo che non riapro la via di fuga a questi geni del male ok allora in teoria il ragazzo dovrebbe venire dovrebbe uscire fuori in teoria facciamo qua io ti conosco tu vedi un punto dove uscire e poi esci ecco qua ora secondo voi che brutto problema ha questo tipo che non vuole uscire di là non lo so però ci metto un blocco lavoro e sarà tratto in modo irrefrenabile non gliene frega proprio un cacchio vabbè la risolvo così perfetto allora signori dai vieni vieni su sta barchettina e non rompere le balle su ok c'è entrato ci ha messo una vita però c'è entrato benissimo signori abbiamo i due villager stavo per ricadere giù non era una buona cosa e anche questo l'abbiamo portato qua ora come prima lo dobbiamo spingere stando molto attenti perché lui non ci vuole andare è un piccolo bastardo ok è andato l'ho dovuto menare ovviamente va bene andiamo anche noi abbiamo questo lui sta dormendo qua ci sono dei letti amico io te lo volevo dire in teoria dovresti correre lì che ci sono dei letti deficiente la 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 eh non ce la fa è cretino devo bloccarti l'acqua sotto pure qui c'ha problemi con l'acqua questo tipo non so perché intanto ho visto uno zombie spero sia sponato da qualche parte perché io qua avevo blindato tutto in teoria non dovevano sponare zombie però va bene ora qua romperei così anche così e qua possiamo chiudere tranquillamente uno due andiamo a secca un attimo sto zombie rompi coglioni da dove sei sponato tu maledetto schifoso sicuramente da questi blocchi qua che non sono illuminati perché in teoria non può spona niente qua su sarà sponato qua su il linfido va bene qua abbiamo detto che ci fa lo zombie che per il momento non ci metto e per il momento devo anche chiudere qua perché devo farli accoppiare esce lo zombie esce il villager nano è un casino altrimenti quindi saliamo su anzi facciamo così ok in teoria qua non spona nessuno intorno vero no non spona nessuno e non è vero da dove cazzo l'hai sponato quello su questo blocco d'erba sicuro hai rotto le palle ok illuminiamo tutto un attimino e qua è un casino ora sarebbe bellissimo dormire forse dovrei dormire anche io ok abbiamo dormito lui è uscito perché è un deficiente ma è rientrato meno male ok e questo l'abbiamo fatto chiudiamo lì e cerchiamo di farli mangiare quindi io farei un buchetto qua allora 1 2 3 4 5 6 7 8 si ve le dovreste scambiare tra di voi non prenderle solamente uno non vorrei che se le prendesse tutte quante uno questo è un deficiente io sono più deficiente di loro che gli butto il piccone porca zozza eh vabbè ma ce n'è uno che è ingordissimo potete fare cose ancora no si si possono fare cose signori in teoria dovrebbero riuscire a fare cose devo solo sfasciare questo fatemi vedere il nano zombie il nano villager eccolo qua oh e abbiamo i nostri 3 villager ma dobbiamo aspettare che quello nano cresca perché al momento non è piccolo allora mentre aspettiamo che loro crescono vado a prendere l'acqua così iniziamo pure a finire sta farm allora 2 secchiate d'acqua per la pozza infinita ce l'abbiamo mi serve una secchiata di lava la potrei andare a prendere io mi ricordo che qua dietro c'era della lava sono quasi sicuro che qui dietro ci fosse della lava io se magari vado in giro con la spada in mano e non con altre minchiate forse è più comodo c'era della lava c'è della lava sta in culonia però la lava va bene ok mi ci sono avvicinato forse riesco o forse morirò malissimo l'ho presa l'ho presa ok ce l'abbiamo ce l'abbiamo signori abbiamo anche la secchiata di lava qua posso spezzarmi le gambe come al solito possiamo andare a finire la nostra farm in teoria dovrei aver preso tutto più o meno ok usciamo di qua facciamoci una pozzetta d'acqua infinita che mi serve la possiamo fare momentaneamente qua tanto è uguale si magari insomma facciamo le cose sistemate perfetto una qua una qua e siamo tutti contenti ok allora prima di tutto ripristiniamo qui che è meglio ottimo poi andiamo ad aggiungere tre secchiate d'acqua qua quindi una qui beh oddio veramente ne basta anche semplicemente una ok tutto si sbatti per niente allora quindi l'iron golem verrà buttato più o meno da queste parti se io qua metto una cosa del genere e poi dovrei fare una roba con i cartelli più o meno così non è vero aspettate allora se non mi ricordo male si fa una roba del genere così poi qua si mette un cartello quassù così eh lo so esteticamente non è proprio bellissimo però dovrebbe essere così giusto più o meno e in teoria qua dentro ci va una secchiata di lava così perfetto l'iron golem essendo alto dovrebbe andare a toccare la lava quindi se brucia muore e ciccia dovrebbe essere questo il funzionamento però per testarlo dobbiamo aspettare che questi villager crescano e poi mi serve uno zombie uno zombie giustamente mi serve uno zombie con un oggetto in mano perché io non ho la name tag e questo già è un gran casino do lo becco uno zombie con un oggetto in mano allora è anche vero che noi abbiamo una farm di zombie giù potrei sfruttare quello potrei sfruttare quello allora vediamo se vediamo se riusciamo a far prendere un oggetto uno zombie in teoria ogni tanto lui dovrebbe riuscire non gliene può frega di meno a questo di prendersi l'oggetto va bene ci riproviamo prenditi quel delmetto perché non te lo prendi quel delmetto che è tanto bellino tanto carino non se lo prende gli fa proprio schifo cioè cos'è non ti piace questo delmetto eppure è bello non se lo prendono forse c'è una possibilità ogni tot che si prende l'elmetto oppure alcuni zombie non lo raccolgono proprio non lo sappiamo mai allora questi delmetto non se lo son preso vediamo se se lo prende questo se no vado alla farm di zombie ragazzi eh no va bene andiamo alla nostra farm allora la mia tecnica è questa ho buttato giù degli oggetti ora li lascio sponare prima o poi spero che qualcuno prenda quell'elmetto appena prende l'elmetto blocco lo spawner mi allontano ritorno se lui è rimasto vivo quindi non è desponato me lo porto su facciamo così ok ragazzi ha funzionato eccolo qua lo zombie che ha l'elmetto culo quindi anche protetto dal sole e non è desponato mi sono allontanato per fare la prova gli altri che c'erano sono desponati lui no quindi a questo punto noi dobbiamo portarci questo zombie con molta calma con moltissima calma eh si dove stanno gli altri praticamente villager per fare questo devo farlo arrivare qua e farlo salire qua dentro in teoria dovrebbe potermi seguire in teoria magari prenderò un po' di mazzate è probabile forse dovrei farmi un altro elmetto molto probabile magari sarebbe figo anche avere uno scudo però vabbè ce la rischiamo così ce l'ho del cibo ho finito il cibo giustamente qua non c'è più nulla ottimo ottimo vabbè c'ho della bombil c'ho delle patate quindi suppongo che siamo tutti quanti contenti me ne prendo 4 5 scusate raga devo un attimo mangiare perché altrimenti qua si muore bene mi ha fatto un po' di patate ok possiamo andarci a fare inseguire dallo zombie sperando uno che mi segua due che non muoia poverello perché se mi muore mi incazzo male allora quindi così dovresti riuscire a seguirmi esatto mi segue tantissimo bravo mi sta anche saccagnando di mazzate il bastardo bravo tu seguimi guarda ti porto in un posto fantastico molto bello eccolo qua il nostro amico poi quando avremo una name tag per sicurezza glielo diamo un nome però per il momento anche no non ce l'ho guardalo come mi segue ora devo sperare che lui riesca a seguirmi fin qua dentro eh quello è un problema sono qua questo sentiva la puzza dei villager allora no 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 dove vai oh cretino e io sto qua e perché no porca zozza dobbiamo riandare molto velocemente giù allora è ancora vivo meno male allora amico mio che problemi hai tu devo metterti nella barchetta pure a te io ti metto nella barchetta non è che ho tanti problemi però sarebbe carino ecco qua viene nella barchetta perfetto me mena mentre sto nella barchetta me mena porca zozza se me mena mi mena tantissimo questo e vabbè ma sei antipatico però eh porca miseria io ci rimango per fare sta cosa allora ragazzo come faccio a farti andare lassù senza rompere le balle a nessuno non ne ho proprio idea proviamo a fare così intanto tac ok mo se me sposto forse ci va spontaneamente se non c'è andato ci trovo amazzato vaffanculo c'è andato perfetto andiamoci a prendere un altro po' di mazzate dallo zombie cosa cazzaro la sto facendo spero di non aver distrutto la mia sorgente di salita spero di no si l'ho un po' distrutta ma si l'ho proprio distrutta porco lo schifo non ci sto credendo devo rifarla devo rifarla e potenzialmente morirò l'ultima volta che stavo morendo qua dentro eh però stavolta mi ricordo che magari posso piazzare torce intanto lo zombie mi è pure morto giustamente perché porco non ci sto credendo ci muoio stavolta ci muoio signori stavolta ci muoio perché sono accompagnato da eh infatti ci sono morto lo sapevo lo sapevo sono spawnato con i village non era quello che volevo fare adesso devo rompere la pinta ci sto credendo ok qual era la zona giusta questa devo rompere due blocchi di cobblestone a mani nude perfetto vedevo l'ora raga purtroppo mi sono sbagliato mi è partita una torcia quindi lo zombie è morto male cioè non è che è morto si è trasformato in un annegato il bastardo ci ho fatto un casino praticamente e le carpi in tutto questo dove stanno allora la mia domanda è ma gli annegati fuori dall'acqua morivano? sapete che non me lo ricordo sta cosa? beh lo scopriremo a breve signori lo scopriremo a breve io spero tanto che non muoiano fuori dall'acqua gli annegati comunque in teoria gli dovrei mettere una secchiata d'acqua sotto quindi beh non lo so raga vedremo e se mi muore ne faccio rispondere un altro che devo fare? porca zozza perché mi è scappata quella torcia di merda capite? quindi ho sfanculizzato tutto il sistema di risalita ah ma togliti le torce di mano deficiente ok andiamo allora lui sta qua e fin qua è tutto a posto io devo semplicemente farmi seguire da dentro ce l'ho dei blocchi? ce l'ho dei blocchi si perfetto allora amico mio qua dentro ci sono dei villager bellissimi che tu dovresti apprezzare molto in teoria quindi se io faccio così tanto tutti gli altri cresciuti dovresti vedere i villager e uscire scemo lui non ci esce scemo manco per niente e vabbè ma allora ce l'hai con me dillo che ce l'hai con me forza che cazzo vuole sto ragno? oh levati dalle balle qualcuno mi spiega questo come c'è salito qua vieni qua dentro eh lo devo un attimo blindare è potentissimo questo zombie c'è un'intelligenza artificiale ma non so se sta affogando se è ancora vivo non lo so allora forse sarebbe il caso di togliere sta risalita che dite? potrebbe essere una buona idea ok e mo un po' è più salì mo se io riesco da qua e a farti una piccola trappolina ok non doveva succedere quello che è successo la farm funziona signori perché l'erongole mi ha sponato però mi ha seccato il villager lo zombie porca puttana maledetta sì abbiamo appurato che la farm funziona decisamente non doveva succedere mai questa cosa va bene vado a riprendere un altro zombie però devo anche seccare questo io questo come lo seccomo questo è potentissimo questo se me becca mi secca male sì infatti questo mi fa proprio male se mi becca allora amico aspetta eh forse riesco a fregarti in questo modo hop 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 sali bravo non sarei dovuto andare qua io ok forse se riesco a scappare magari non muoio male bene stiamo vedendo il funzionamento della farm perfetto siamo molto contenti di tutto quello che stiamo facendo stiamo facendo un casino assurdo per far sta roba però eh vabbè ci sta eh ragazzi bisogna fare esperimenti vedere come va se funziona se non funziona è tutta una cosa apocalittica fantastica quindi in teoria qua dentro non c'è il lingotto perché non c'è il lingotto non c'ha non c'ha droppato il lingotto non è che non li droppa sempre i lingotti in teoria sì non lo so a bruciare in teoria non brucia il lingotto questo è sicuro perché comunque c'è l'acqua sotto quindi non dovrebbe bruciare vabbè andiamo a prendere un altro zombie vabbè tanto è abbastanza semplice perché basta mettersi qua prendi un elmetto lo lanci esattamente lì togli il sistema di risalita per evitare che te seccano male e togli le torce una e due questi iniziano a sponare prima o poi arriva quello che si prende l'elmetto quelli che non se lo prendono li secchi e siamo tutti quanti contenti ok non so se lo vedete signori ma eccolo qua si è preso l'elmetto riblocchiamo la farm adesso ci allontaniamo così lo zombie nano despona e mi rimane solo quello con l'elmetto easy proprio easy allora io per sicurezza mi porto pure la soul send perché se non mi ricordo male lo zombie dovrebbe saltare in modo che i villager lo vedono e poi non lo vedono più così si rilassano e si agitano in continuazione dovrebbe essere quello il funzionamento perché alla fine la farm di ferro funziona quando i villager dormono e vengono svegliati quindi hanno il terrore ma se a un certo punto non dormono più da quello che io mi ricordo la farm non funziona più quindi dobbiamo assicurarci che i villager possano dormire in teoria per come l'ho costruita ho fatto delle prove in creativa dovrebbero dormire lo stesso perché mettendosi lateralmente per un attimo lo zombie non lo guardano più e quindi si addormentano poi si risvegliano all'improvviso terrorizzati però per sicurezza mi la porto sta cosa non si sa mai ok l'abbiamo rimesso nella barca ora prendiamo altre mazzate giustamente nel mentre che mi giro quello è un attimo ok sono ancora vivo miracolosamente adesso lo chiudiamo e ritogliamo la barca io mi sposto di qua lui non dovrebbe più vedermi quindi in teoria per curiosità va esattamente lì bravissimo mangiamo un attimo no 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 devi andare dovevi andare dietro dovevi andare tutto sorello maledetto niente ricominciamo ma pure sfasciato i piedini sto bastardo infame ok ce l'abbiamo fatta signori ce l'abbiamo fatta adesso saliamo pure noi e facciamola andare dove deve andare tanto qua basta che rompo questo lui dovrebbe vedere i villager impazzisce dove sta oh ciccio vai dai villager vai in teoria i villager dovrebbero attirarti molto di più di me niente sei innamorato di me questo non vedi villager è stupido ok per un attimo pensavo che era un golem mi stesse venendo a seccare male dove sta amico e dagli su ma lei hai visti gli amici tuoi no non li vedo è stupido forse quella secchiata d'acqua non gli piace vai vai dei villager non ci vuole andare è proprio infamissimo eh no porca zozza un'altra volta ma come cazzo è scop... ma porca puttana ok ragazzi ne ho preso un altro di zombie ormai ho fatto la collezione do star sto deficiente è salito devo farlo scendo devo cercare di farlo entrare prima che mi spona all'area un golem che se no me lo secca un'altra volta e mi incazzo come una bestia ok ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo attenzione non è proprio messo nella posizione giusta però ce l'abbiamo l'importante è quello vai a... vai a... litiga con i villager non rompere le balle a me dovresti fare un passettino oh signori attenzione facciamo così mettiamo una secchiata d'acqua là ci ho messo la soul sand quindi in teoria i villager dovrebbero spaventarsi verifichiamo questa cosa sono abbastanza spaventati allora in teoria la nostra farm dovrebbe essere pronta vabbè ci avevo la terra messa in mezzo le balle quindi questo mi è sponato da un'altra parte non è un problema quello sta lì questo lo possiamo togliere questo lo possiamo togliere vediamo tutta la roba che non ci serve questo non ci serve io qua metterei della cobblestone sinceramente così quello non ci serve mai qua dell'altra cobblestone e poi qua su uno slab allora in teoria non ci sono posti dove l'aeron golem possa sponare ma l'unica difficoltà di tutta questa roba è che io devo seccare l'aeron golem chiaramente perché se sta lì mi sfanculizza tutto allora come secchiamo l'aeron golem probabilmente ammazzate quante possibilità ci sono che mi ammazza lui a me tantissime però magari sfruttando la potenza delle staccionate lui non mi becca io lo becco sì sì lo becco tantissimo lui non mi becca siamo tutti quanti contenti ok l'aeron golem è morto quindi se non ho lasciato altri pezzi di terreno maledetti non mi sembra a parte questa giustamente che va tolta subito l'aeron golem dovrebbe sponare lì su perché è l'unico posto dove può sponare qua ci ho messo lo slab non so per quale motivo eh sentite il dolce rumore dell'aeron golem che si secca ok ragazzi finalmente abbiamo la farm di ferro ci abbiamo messo un po' però ce l'abbiamo ora dobbiamo fare il sistema tale per cui gli oggetti i lingotti di ferro che arrivano qua dentro vengono buttati qua vediamo come fare allora sicuramente da questa tramoggia io voglio che vadano qua perfetto il gettatore dovrebbe stare più o meno qua gettatore che al momento non ho però in te dovrebbe essere abbastanza semplice quindi ipotizziamo che qua ci vada il gettatore qua ci va la tramoggia così perfetto infatti tutto quanto va qua va bene devo solamente andare a prendere un po' di roba e in teoria riusciamo a finire questo sistema allora mi servirà un dropper che lo faccio facile forse già ce l'ho potrei averlo già non è vero mai non è un problema tanto mi serve un po' di red se non me la porto togliamoci un po' di blocchi inutili adesso allora facciamo il dropper subitissimo così perfetto poi mi servirà un comparatore sicuramente che forse già ce l'ho ce ne ho addirittura due uno credo che mi basti mi servirà un repeater potrebbe servirmi un repeater come si faceva il repeater non me lo ricordo più si faceva così della stone abbiamo della stone ma sicuramente si eccola qua due repeater in teoria dovrebbero bastarmi cos'altro mi serve in teoria niente cioè in teoria dovrei aver finito penso di si magari un altro un altro dropper no non mi serve ok dovrei aver finito andiamo su e vediamo di fare quello che dobbiamo fare allora questo è il dropper che deve sputacchiare la roba da questa parte e fin qua ci siamo qui dobbiamo blindare tutto in modo che gli oggetti vadano esattamente dove diciamo noi cioè lì dentro intanto la farm di ferro signori io direi che funziona molto ma molto bene qua ci mettiamo questo cosetto qua forse non lo posso mettere devo prima farlo diventare terra normale fa un casino l'iron golem me ne rendo conto ok quindi facciamo così e così perfetto rimettiamoci della normalissima terra e qua dobbiamo fare tutto il circuito che poi porterà la roba lì in teoria e però in teoria mi servirà un repeater lì perché il segnale di redson è troppo debole quindi un repeater qui giusto devo sfasciare pure questa vediamo di non fa casini che ormai siamo arrivati leviamo sta roba da qua e facciamo così controlliamo appena muore in teoria si dovrebbe attivare e questo dovrebbe sputacchiare la roba lì dentro vediamo se è vero la sputacchiata l'ho prese io perché sto vicino signori la nostra farm di ferro io direi che è perfettamente funzionante qua per sicurezza ci metto una lucetta così siamo sicuri questo qui lo trasformiamo così non ci spona nessuno allora in teoria non ci sono punti di spawn da nessuna parte ora dobbiamo andare a distruggere questa pozza d'acqua che abbiamo fatto e per distruggerla mi ci devo infilare dentro di cattiveria è un problema potrebbe essere un problema effettivamente facciamo così facciamo così facciamo così ci mettiamo qua richiudiamo il tutto che qua deve essere chiuso uno e due chiudiamo pure qua per sicurezza e mo' è un casino perché qua devo fare così e poi rompere e scendere ci vediamo quando arrivo giù ok ragazzi mo' ci mettiamo qua e aspettiamo di verificare che tutto funzioni intanto io mi farei un'altra bella tramoggia e per il momento farei anche una cesta poi la aggiustiamo e direi che funziona vedi come casca il ferro una figata oh signori funziona tutto perfettamente ora dobbiamo scegliere dove far arrivare gli oggetti io qua farei una roba del genere qui chiuderei così metterei la tramoggia esattamente in questo punto qua chiudiamo con questo blocco e direi che se mettiamo una chest qua o anche un barrel volendo perché no mettiamo un barrel che è più carino un bel barrel messo lì ecco qua abbiamo messo il barrel vediamo quello che succede qua poi ci potete mettere un pezzo di vetro per il momento ci metto questo ok attendiamo ecco che arrivano solo fiori va bene però funziona abbiamo la nostra farm di ferro che ci porta il ferro direttamente in base una gran figata comunque ragazzuoli io per questo episodio mi fermo qua spero che questa puntata vi sia piaciuta abbiamo fatto un bel po' di roba e nel prossimo episodio signori faremo una cosa molto figa non vi voglio spoilerare troppo ma sappiate che questo villaggio verrà completamente trasformato e lì abbiamo pure un bellissimo slime che devo sistemare verrà trasformato protetto e diventerà una cosa molto figa comunque io vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi ciao